Mentre uno dei protagonisti del derby videoludico di quest'anno si appresta ormai a scendere in campo, Konami rende finalmente disponibile a tutti gli utenti una versione dimostrativa del suo PES 2015. La filosofia dietro al nuovo capitolo della serie è ormai chiara, basta in seguimenti verso una concorrenza che ha ormai preso una strada completamente diversa, ma piuttosto un ritorno a quel feeling che ha reso grande la serie qualche anno or sono. Questa nuova versione di prova offre la tradizionale selezione di top club europei con la quale affrontare degli ancora più classici incontri d'esibizione. A livello di spettacolarità nell'introduzione della partita è subito visibile come la concorrenza mantenga una marcia in più, ma è una volta battuto il calcio d'inizio che miglioramenti iniziano ad emergere. La velocità di gioco sembra essere più equilibrata e realistica rispetto al principale concorrente ed è possibile notare un sensibile miglioramento di inerzia e fisicità dei giocatori, visibile nella difesa del pallone e nei contrasti difensivi. La diversità nella richiesta di una costruzione della manovra convincente tra i due livelli di difficoltà presenti è comunque abissale. In una il pressing avversario è praticamente impalpabile, mentre nell'altra ritrovarsi addosso due o tre giocatori avversari che cercano di sradicarci la palla dai piedi diventa la normalità. Durante la nostra prova abbiamo potuto assistere anche a diagonali convincenti da parte dei difensori rivali e ad una tendenza dei nostri compagni a proporsi per inserimenti e palloni filtranti. Da segnalare purtroppo anche la sporadica presenza di casi di letargia che portano qualche giocatore a esitare nella riconquista del pallone, sicuramente meno digeribili quando avvengono nella propria area di rigore. Gli estremi difensori mostrano ancora incertezza gli interventi più ravvicinati e nei rimpalli, mentre rimane da rivedere qualche posizionamento discutibile su pallonetti e alcuni tiri da fuori aria che mostrano ancora una certa incostanza nelle prestazioni dei numeri 1. Apprezzabile invece è la tendenza a lanciarsi sui palloni provenienti dai calci d'angolo, che rende il loro comportamento più in linea con quello reale. Si conferma valida anche la diversificazione del comportamento in campo, in linea con i rispettivi team reali. Buona sembra anche la capacità di adattare azioni e strategie nel corso della partita, con squadre che non esiteranno ad andare contro la propria impostazione di base per sfruttare imbucate centrali non appena lasceremo scoperta tale zona del campo. La revisione del sistema di tiro viene arricchita da una fisica della palla migliorata. Ciò è evidente non solo nella soddisfazione che si prova dopo una bella conclusione verso la porta avversaria, ma anche dalle deviazioni più realistiche che il pallone subisce impattando sui calciatori posti sulla traiettoria. Migliorate rispetto alle ultime uscite pubbliche anche le animazioni. Pur rimanendo inferiore alla concorrenza in termini puramente numerici e di varietà, i movimenti dei giocatori rimangono molto fluidi e meno slegati tra loro. Non sono rari, infatti, in casi in cui dopo un tackle il giocatore in possesso della palla tenterà comunque di mantenere la posizione del possesso, con risultati ovviamente diversi in base alla situazione e all'azione di gioco. Apprezzabile inoltre è la personalizzazione degli stili di corsa e delle posture iconiche dei giocatori più celebri, che riproporranno anche sui campi virtuali di Pesto 2015 le loro caratteristiche movenze. Sul fronte grafico l'impeccabile modellazione dei volti dei giocatori più celebri presenti nella demo fa da contraltare ad alcuni dettagli meno curati, come una certa tendenza da Ikita a sporcarsi molto meno del dovuto e reti ancora caratterizzate da un'eccessiva rigidità. Da segnalare infine la piccolissima anteprima della modalità My Club, che sembra ricalcare fedelmente le orme del celebre Ultimate Team. Anche alla luce di questo e degli aggiornamenti che Konami ha promesso su base settimanale, l'assenza di alcuni degli ultimi movimenti di mercato all'interno delle formazioni disponibili per questa demo preoccupa relativamente poco. Se di ritorno alle origini doveva trattarsi, il lavoro svolto da Konami appare sempre più convincente ad ogni nuova build mostrata. PES 2015 infatti mostra già una personalità più marcata, che se non sarà in grado di convertire chi appartiene a una filosofia calcistica virtuale diversa, non mancherà di farsi apprezzare dagli appassionati del franchise. Nonostante la presenza di zone d'ombra ancora da verificare, le sensazioni emerse da questo ennesimo test non possono che confermare il cauto ottimismo con il quale ci prepariamo a vivere i due mesi che ci separano dalla release ufficiale della nuova simulazione calcistica Konami. 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 Grazie. Grazie.